Una sala completamente bianca senza nessuna opera d'arte in un museo? Eh già, perché qui l'opera d'arte è il profumo. Questa è una delle nuovissime mostre che potrete trovare al Museo del Novecento. La prima mostra è quella di Giulio Paolini, che si interroga con la sua arte sul ruolo del tempo e dell'artista. E' assolutamente da non perdere l'opera di Luca Vitone, realizzata partendo dalle polveri dei disegni di Giulio Paolini. E infine, come conclusione di queste nuove mostre, l'esposizione delle magnifiche nature morte di Filippo De Pisis.